Buongiorno a tutti, sono Marco Massi. Oggi andremo a realizzare dei frullini montati. Gli ingredienti sono 350 g di burro, 200 g di zucchero a velo, 75 g di tuorli, 2 g di sale, 500 g di farina debole per biscotti, una bacca di vaniglia. Iniziamo col procedimento. In una prima Italia mettiamo la frusta a fini fini. Il burro e lo zucchero. Quando il burro e lo zucchero saranno ben montati, andremo ad inserire i tuorli poco per volta. Andiamo ad unire la nostra bacca di vaniglia e il sale. A questo punto andiamo ad incorporare anche la farina con una spadola in gomma. Il nostro impasto risulterà bello liscio e omogeneo. Mettiamo il nostro impasto in una sac à poche. Prendiamo una taglia da forno con carta. Andiamo a formare delle piccole esse. Ecco pronti, andiamo ad infornare a 150 gradi per 10 minuti.